Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò continuano ad essere molto uniti. La giovane coppia in questi giorni ha lasciato Milano e si è recata nelle Marche per trascorrere un po' di tempo al mare. Oggi si trovavano nella spiaggia di San Michele Sirolo, completamente immersa nel verde del Monte Conero. Una spiaggia ampia e lunga ideale per rilassarsi o passeggiare. Di fronte il mare, alle spalle il verde della macchia mediterranea. Proprio in questo fantastico posto, la coppia ha deciso di fare degli scatti divertenti. Andrea Zenga, nel suo profilo Instagram, ha infatti pubblicato due scatti. Nella prima foto scrive, ecco come vorremmo essere. Nella seconda, in modo ironico scrive, ecco come siamo realmente. Sempre Zenga, in una sua storia Instagram, fa sapere ai fan che stanno andando a fare delle altre foto e invita tutti ad andarle a vedere. Ecco le varie foto della giornata. A breve la coppia farà ritorno a Milano, dove riprenderà in mano i propri impegni professionali. La nuova stagione, quella autunnale, è ormai in arrivo. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.